Omega Speedmaster Racing, l'orologio che abbraccia la passione per le corse. L'orologio da polso Speedmaster Racing è molto più di un semplice accessorio di stile, è una dichiarazione di passione per la velocità, l'adrenalina e la perfezione tecnica. Il design dello Speedmaster Racing cattura l'essenza dell'adrenalina e della velocità delle corse. Il quadrante, spesso arricchito da elementi di ispirazione automobilistica, evoca il contachilometri di un'auto da corsa. Le sfumature di colore e le texture si fondono in un'armonia visiva che richiama i circuiti automobilistici e il mondo delle corse. Sotto l'aspetto esteriore accattivante, lo Speedmaster Racing è alimentato da un movimento meccanico di alta precisione. È in grado di mantenere il tempo con la stessa affidabilità che i piloti richiedono alle loro macchine da corsa. È un compagno affidabile e funzionale, pronto a segnare ogni minuto di avventura. L'orologio da polso Speedmaster Racing è un omaggio alle corse automobilistiche e all'energia travolgente di circuiti. Lo Speedmaster Racing presenta la funzione cronografica, visibile su due subquadranti a essa dedicati, la scala tachimetrica, il subquadrante dei piccoli secondi a ore 9 o a ore 3 e il datario, che può essere perimetrale o con finestrella a ore 3 o 6, o all'interno del subquadrante delle ore cronografiche a ore 6 o può essere tra le ore 4 e le ore 5. L'Omega ha realizzato la collezione, la leggenda, per rendere omaggio al pilota della Ferrari più forte di tutti i tempi, Michael Schumacher, con la sua firma incisa sul fondello. Sul quadrante possiamo trovare la funzione giorno-notte a ore 9 nel subquadrante dei piccoli secondi e la funzione dei date con giorno e mese all'interno del subquadrante dei minuti cronografici e data perimetrale. Il modello Speedmaster Super Racing invece presenta una nuova tecnologia chiamata Spirat, applicata sul movimento di una spirale del bilanciere, rivoluzionaria, ancora in corso di registrazione, che consente regolazioni finissime della marcia dell'orologio. Numerosi personaggi famosi hanno scelto di indossare lo Speedmaster Racing per esprimere la loro passione per le corse e lo stile senza tempo. Da piloti professionisti a celebrità del mondo dello spettacolo, questo orologio è diventato un simbolo di determinazione e successo. Scegliere di indossare uno Speedmaster Racing non è solo una questione di stile, ma è anche un investimento nel tempo.